Finisce sui piedi di Caridi che è un po' in ritardo del rinvio, c'è il pressing alto del Milazzo, attenzione, una carica su Rondinelli, ha ammonito, ancora ha ammonito, ha ammonito, mangia pane per proteste sicuramente. Si riprende a giocare dopo una pausa, attenzione, parla che sorvola sulla testa di Rondinelli e finisce tranquillamente tra le braccia di Terracciano. Grazie.